Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la nostra supposta simpaticissima ovvero anche tic tac, preferente come chiamarla alla chiamata e su Fall Guys signori, oggi proveremo ancora a cercare di migliorare i nostri progressi l'ultima volta abbiamo fatto schifo nell'ultimo video e nonostante nel video precedente fossimo riusciti ad arrivare in finale cosa faremo in questo video? Schifo sicuramente, però vediamo, vediamo cosa riusciamo a inventarci detto questo signori, prima di partire il video io vi ricordo di iscrivervi al canale vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state lasciando a questa serie vi ricordo di seguirmi su Instagram, soprattutto su Instagram, è logico, mi trovate come Maullo941 e il link lo trovate in descrizione, perché tramite le stories vi informo sulla programmazione del canale e sulla live che andiamo a fare sia su questa piattaforma che sulla piattaforma quella viola quindi vi ricordo di seguirmi anche lì detto questo signori abbiamo creato il puffo, questa volta abbiamo una supposta per puffi una supposta per puffi, detto questo non perdiamo altro tempo, partiamo col video e andiamo in partita chi la fa l'aspetti praticamente, nel senso siamo stati eliminati da questo livello riproviamo la scalata verso la vittoria e con le livelli ci ricapita nuovamente questa grandissima cacata di livello, perfetto, grande, grande Fall Guys, ti amo sempre di più dico io penso che la prossima settimana saranno gli ultimi episodi che porto di questo gioco perché non lo tollerò più signori, non lo tollerò più, è proprio una questione di pelle è proprio una questione di rottura di pelle, è proprio una questione di rottura proprio di... ci siamo capiti va dai così, salta su posto, salta su posto ancora, dai così forse, forse però potrebbe andare meglio questa volta signori, questa volta potrebbe andare meglio ok è il primo giro di Eli che l'abbiamo superato dai, 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 spostatevi, mannaggia le vostre mamme dai, dai, levati, levati, levati mi ha spinto, ma stiamo scherzando, ma che gioco... ma non è per niente un gioco onesto questo, signori ma ti levi, mannaggia te, levati, spostati, che devo prendere la coincidenza levatevi, levatevi tutti quanti, salta su postina, ok in 43, ancora non si è qualificato nessuno certo, ora c'è qualche posto in più rispetto a prima prima eravamo in 29, che potevamo semplicemente passare il turno perché sono saltato da quel lato che non serviva a nulla? no, no, zitta, zitta, che invece forse è stata un'ottima idea oh no, c'ho il gallo, c'ho il gallo dietro di me, signori, attenzione al gallo di nuovo la nuvola, ma sta nuvola mi perseguita? sta nuvola mi perseguita, quando c'è la nuvola io cado sempre, signori sempre, la seconda volta che con la nuvola in mezzo alle piedi hai in mezzo alle scatole soccascato dai così, vola, 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 brava la su postina, la su postina dai, 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 forse la buona no, ma dico, ma perché mi devono spingere? mi stavo grattando l'occhio, scusatemi, signori mi serve la massima concentrazione perché, no, 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 no mi stavo facendo trarare l'inganno da quello che si è lanciato no, ma io poi sono stupido sono stupido come pochi come pochi al mondo, signori ce la faccio, ce la faccio grande la su posta che è riuscito a fare un salto lasciami, lasciami ma che vuole questo? lasciami ma guarda, questo mi deve spingere vorrei sapere la nuvoletta fantoziana dov'è la nuvoletta fantoziana vorrei sapere dov'è salta, 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 salta salta, ok io vorrei sapere la nuvoletta fantoziana dov'è mannaggia a lei che mi ha fatto cascata ok, calma, 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 calma 22 su 43 forse, forse abbiamo ancora qualche speranza perché il lupo mi sta seguendo? perché il lupo mi sta seguendo? guarda come vogliamo tutti ok, io sono cascato quasi male no, non posso più andare da nessuna parte c'è la barra calma, calma, calma no, sono stupido, sono stupido sono stupido sono stupido dov'è la nuvoletta? mi dite dov'è quella cazzarola di nuvoletta? mannaggia però sono inseguito da giocatori di baseball ci sono giocatori di baseball che mi seguono malamente grande, grande salto signori grande salto dai così, dai così, dai così, dai così zitti che forse riusciamo a qualificarsi zitti che forse riusciamo a qualificarsi no, guarda dove... no, la nuvoletta è tornata, signori la nuvoletta è tornata, la nuvoletta è tornata gravissima dai, 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 dai ok ok, ce l'abbiamo fatta trentasettesimi, signori salto a supposta trentasettesimi ce l'abbiamo fatta mamma mia che sudato ma perché c'erano 40 passaposti, signori se no non penso che saremmo riusciti a passare già saremmo stati eliminati malamente ma questo ha fatto il volo dell'angelo ma che cazzo si è lanciato proprio nel vuoto va bene, dai dai vediamo qual è il prossimo livello vediamo qual è il prossimo livello cazzo, ha rollato in una miseria quanti eravamo? non lo so ma siamo rimasti in 43 va bene va bene 43 ce lo possiamo fare 43, 43 43 trentini entrano a 30 tutti i 43 tottrollando prossimo livello, signori vediamo se è qualcosa di fattibile o se è nuovamente qualcosa di osceno rollout ok rollout ne possiamo parlare rollout se non c'è lo sparafrutta di fronte a noi penso di riuscirlo a superare se non c'è lo sparafrutta di fronte a noi potrei riuscirlo a superare dai così ok non c'è lo sparafrutta dove è il bordo? di là quindi andiamo subito in quella direzione oh guarda c'è una supposta puffettosa come a noi che carina anche qui allora capiamo un attimino questo va in questa direzione ok quindi dobbiamo subito levarci dalle scatole di qua ok no 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 mamma mia che stavo a cascar male signori che stavo a cascar male fermi 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 passa 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 ok no 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 ma siete delle merda siete delle bruttissime marmellate ho detto marmellate oh c'è il mago merlino signori c'è il mago merlino con noi dai che sono cascati già tutti dai che sono cascati no no lasciami mago il mago mi sta a fare la magia mi sta a far sparire buttandomi di sotto ah no 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 ok sono morti in 15 dai ne mancano due signori in 16 dai dai chi è il prossimo a voler oh no c'è la nuvola signori la nuvola affianca a me la nuvola affianca a me via 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 qualificati e anche questo è andato e anche questo è andato roll out superato roll out superato secondo livello superato andiamo per il terzo andiamo per il terzo signori che è stato eliminato che poi vedi vengono eliminati in 17 ma se no ne butta fuori due ma che che vuol dire non lo so non l'ho mai capito questo discorso se vengo eliminato io vengo realmente eliminato tra le tre se no due ne butta fuori cioè vengono eliminati in 17 ne butta fuori due ah no ma eravamo in 40 è vero eravamo sopravvissuti in 40 e passa si sono stupito io signori perché erano 55 poi sono dentro di 40 e quindi ora siamo in 20 niente non carica più una volta che avevo passato il livello si ok fruit cut questo non sono mai riuscito a completarlo signori arrivo quasi quasi al limite poi mi prendo una banana in faccia e ritorno praticamente all'inizio del livello quindi non penso di riuscire a passarlo vediamo 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 cosa riusciamo a fare vediamo cosa riusciamo a fare partiamo dietro la nuvola ecco quando si dice proprio partire nel momento più sfortunato ultima fila dietro la nuvola signori è già l'apoteosi del fallimento partire dietro la nuvola no 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 se magari si spostano invece di rompermi ecco mi sono preso l'anguina davanti no che cos'era un pallone da rugby dai 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 qualcuno vuol fermare quella supposta blue qualcuno ferma la supposta aiuto calma 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 signori io non ho mai superato sto non ho mai superato sto livello signori ce la facciamo ce la facciamo qualificati signori qualificati non l'avevo mai superato sto livello tagli� così e la volta buona me la sento me la sento La nostra supposta puffoniana ce la può fare Ce la può fare signori 25, rimaniamo in 15 Attenzione, oddio La nuvola in basso a destra c'è ancora La nuvola fantoziana in basso a destra c'è ancora Questa cosa mi mette ansia Qual è il prossimo livello? Siamo in 15, è finale? Attenzione, è finale? No, non è finale No, quello dei cerchi non lo so fare Quello dei cerchi, quello dei cerchi non lo so fare Ma perché arrivo sempre a tanto Così dal poter fare qualcosa Di bello E poi mi devono Ma non mi potrei mettere un livello più facile Dico io no, i cerchi I cerchi nel grano, ora dimmi tu se è normale Mi devi mettere i cerchi nel grano Dai 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 dai, aia mi ha preso già a testa La nuvola ma già, no ma mannaggia A te nuvola di questo Par di palle, aia ma che fai La capriola zio Dove sono i cerchi? Uno già si è qualificato ha preso il cerchio giallo Dove mi dai un cerchio qui mannaggia a te Mannaggia a te Mi dai un cerchio Non mi deve dare nessun cerchio Guarda guarda Eh già sono soffregati Vorrei un cerchio Uh 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 Questo è carino Questo è carino Ce la faccio se non lo vuoi Ce la faccio? Ce la faccio? Ce la potrei fare? Ce la potrei? Ce l'ho fatta? Uno l'ho preso Un cerchio giallo Un cerchio giallo Vola vola come il vento Bonsai Vola come il vento Oh Dai Egos Ce l'ho preso io L'ho preso io L'ho preso io Bello Ne ho presi tre signori Zitti 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 Ne ho presi tre Ne ho presi tre Ne ho presi tre No 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 Dai che ne ho presi quattro Ne ho presi quattro Ne ho presi quattro Ne ho presi quattro Corri 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 me ne mancano cinque Me ne mancano cinque Me ne mancano cinque Preso questo Preso questo Dai così Ne ho presi? No sono ancora cinque Pensavo di averne presi sei No? Ok Perché non me li sta più contando signori? Dai 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 Ma ne ho presi senza Qualificati Mi sono qualificato Che cazzo lo dici? Come ho fatto a qualificare? Ah perché erano in alto Io guardavo a destra Sono scemo io signori Sono scemo io La supposta Dai è così Signori di solito in questo livello Mi arano malissimo In questo livello mi arano malissimo Cioè erano dei pipponi praticamente Sto giocando con dei pipponi Perché mi arano male di solito in questo livello Però va bene Va bene Chi è questo? Flash Con la F grande in faccia Però è riuscito a qualificarsi Bravo 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 Dai così signori Siamo in finale Per forza Siamo in finale Siamo rimasti in nove Siamo rimasti in nove La nuvoletta fantoziana c'è ancora A sinistra signori La nuvoletta fantoziana c'è ancora Aiuto 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 Siamo di nuovo È finale Dimmi che è finale È che è un livello normale Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Dimmi che è finale È finale Bella così Fall mountain Ok Dobbiamo raggiungere la corona Signore Dobbiamo raggiungere la corona Ok Sai che non l'ho mai fatto questo Non ci sono mai arrivato qua in finale Io non l'ho mai fatto Speriamo bene Speriamo bene Speriamo bene signori A un passo dalla corona A un passo dalla corona Partiamo in Non so In prima fila Dai 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 tutti vanno ridi la radio di qua dai 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 giricolo dochio ho chiaro le troppe palle golli delle troppe palle bello 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 però mannaggia Emma No 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 dai 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 guarda mamma mia sono tutti più avanti di messo tutti più avanti in me Dai già già sono arrivati praticamente Ma porca di dettaglia Aia 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 mamma mia l'ho presa due volte in pieno faccia Eh smettila ma io perché Finita Qualcuno è riuscito a toccare la corona Niente da fare No la nuvoletta fantoziana Non ci posso credere Non ci posso che la nuvoletta fantoziana Ci ha fatto per tutti i livelli Adesso ha vinto lui Non ci posso credere Non ci posso solamente credere Proprio quando uno dice Destino Eh vabbè Dai siamo arrivati in finale però signori La supposta puffettosa funziona La supposta puffettosa funziona Abbiamo trovato i pantaloni Le mutande finalmente Ma non ci servono a nulla Detto questo signori Io vi ringrazio per guardare questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao